Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo, giunto Gesù all'altra riva del lago, nella regione di Adarena, gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero, perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro, possono forse gli invitati a nozze, essere in lutto, mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. In che giorni stiamo vivendo? Nei giorni in cui lo sposo è con noi? O nei giorni in cui lo sposo ci è stato tolto? Qual è il tuo giorno? Oggi? Ieri? In questo tempo? Forse nella tua vita? Lo sposo è stato con te? O ti è stato tolto? Ma per essere tolto, prima deve essere stato con te. E' interessante per rispondere a questa domanda, e per vedere come la Chiesa è qualcosa di assolutamente nuovo, rispetto a ogni altra istituzione religiosa. Come è veramente un frammento di cielo, che il Signore Dio ha deposto qui sulla terra. Bisogna andare all'inizio di questo Vangelo, a vedere la geografia di questo Vangelo. Giunto Gesù all'altra riva del lago, nella regione dei Cadareni. La Pasqua. Sappiamo che Gesù passa un'altra volta il mare, passa all'altra riva. E la regione dei Cadareni è la regione dei Pagani. La regione del mondo, laddove tutti noi posiamo i piedi ogni giorno. Il mondo, i Pagani, coloro che non hanno ancora conosciuto lo sposo. I Pagani, che sono sposati a un altro marito, a un altro sposo. Un pochino come dice il Signore alla Samaritana. Tu hai avuto cinque mariti e quello con cui sei ora non è tuo marito. Le cinque nazioni pagane che erano attorno a Israele. I cinque mariti. Cioè l'adulterio dei Samaritani. La religione, la relazione sincretista che avevano con Dio, i Samaritani. Gesù cerca coloro i quali non lo conoscono. E porta con sé i suoi discepoli. I suoi discepoli sono con Gesù. I suoi discepoli sono con lo sposo. I suoi discepoli sono coloro i quali sono stati invitati alle nozze dell'agnello. E hanno lavato le loro vesti nel suo sangue. Nel sangue dell'agnello. Dice l'Apocalisse che la sposa è pronta. È pronta per il suo sposo. Letteralmente si è preparata da sé stessa. Cioè ha percorso un cammino di conversione. Ha percorso un cammino serio per passare dal paganesimo o da una religiosità naturale alla religione autentica, al cristianesimo, cioè alle nozze. Abbiamo iniziato questa quaresima parlando di un fidanzamento. Perché ci aspettano le nozze, la notte pasquale. Era lo sposo. È lo sposo che viene incontro ai catecumeni per unirli a sé. È lo sposo che viene incontro a te, a me, per unirci a lui. Per celebrare nel suo corpo e nel suo sangue risorto dalla morte. Passato attraverso la morte e uscito nella vittoria della vita, della vita eterna. Uscito dal sepolcro per portarci con lui, per farci una sola cosa con lui. Per farci partecipare di questo suo mistero. E sono queste le nozze, le nozze dell'agnello. Lo sposo è con loro. Perché? Perché lo sposo sta passando con loro all'altra riva. Perché lo sposo li trascina nella sua misericordia, nel suo amore, nella potenza del suo amore, più forte della morte, più forte del peccato. E durante il tempo di quaresima, durante il tempo del catecumenato, durante l'iniziazione cristiana, i discepoli si sono preparati. Hanno lasciato che a poco a poco il suo sangue lavasse le loro vesti per giungere nudi nella piscina battesimale che le avrebbe purificati completamente. E uscendo, dice la vocalisse, la sposa ha indossato la veste di lino puro, splendente. E questo è il simbolo che raffigura la dignità di una persona. Vedete quando, per esempio, il profeta Osea vuole attestare che il legame di amore di Dio con la sua moglie infedele, con il suo popolo che è infedele, la spoglia dell'abito nuziale. Questo abito è lavato, il lino splendente, quello che mettiamo ancora ai bambini, quello che si mettono qui in Giappone, i catecumeni che sono battezzati da adulti. Una bellissima veste di lino, splendente, pura, bianca, abbagliante. Dice che sono le opere buone dei santi, ma le opere buone dei santi sono le opere buone di quelli che sono stati separati, perché santo vuol dire separato, di quelli che sono stati strappati dal mondo e nei quali vive ormai Cristo. E le loro opere sono buone perché sono le opere di Cristo, sono le opere buone della creatura, buona, molto buona, che Dio ha ricreato nel suo figlio Gesù Cristo, immagine e somiglianza di Lui. Questo significa che gli apostoli, i discepoli del Signore, non hanno bisogno di digiunare come digiunano i discepoli di Giovanni e i farisei, per purificarsi. Il digiuno non è una purificazione. Il digiuno è molto di più il rapporto d'amore. Il digiuno è legato ai giorni in cui lo sposo è tolto. Qui c'è tutto il mistero profondo della Chiesa, il mistero al quale piano piano, piano piano, nella Chiesa, noi cominciamo a riconoscere come il mistero stesso della nostra vita, della vita dei cristiani, della vita dei figli di Dio, della vita dei discepoli del Signore, il famoso già e non ancora, il Maranatà, che gridiamo, cantiamo nelle nostre celebrazioni eucaristiche. Maranatà, che a seconda dell'accento può significare il Signore è qui, vieni Signore Gesù. Lui è già qui nell'eucaristia, Lui è già qui con noi, la Chiesa è il suo corpo, vivo, sulla terra. Ma è vero anche che il Signore sbarca nella terra dei Gadareni con i Suoi discepoli. È con loro, ma non è con loro. Perché? Perché, al termine della liturgia eucaristica, andate in pace, la messa è finita, ite missa est. Questo, missa, questa parola missa, è molto importante. diceva Ratzinger, il benedetto XVI, in una sua omelia, ite missa est. In questo saluto ci è dato di cogliere il rapporto tra la messa celebrata e la missione cristiana nel mondo. Nell'antichità, missa significava semplicemente dismissione. Tuttavia, nell'uso cristiano l'espressione si trasforma in missione. Quindi, questo saluto esprime sinteticamente la natura missionaria della Chiesa. un pochino come accadde quando all'ascensione il Signore è sparito dalla vista dei Suoi discepoli. Quel giorno ha inaugurato quelli i giorni in cui lo sposo è stato tolto alla vista dei discepoli. Però li ha mandati in missione. Li ha mandati in tutto il mondo, sino agli estremi confini della terra. Li ha mandati nella regione dei gadareni? In quel momento tutta la terra era pagana, a parte Israele. Tutta la terra era, adorava gli idoli, idolatra. Roma era idolatra, la Grecia era idolatra. Esattamente come oggi, come nel tuo ufficio, come nella tua scuola, si adorano gli idoli, gli idoli di questo mondo. Puoi rincarli, possiamo rincarli facilmente, denaro, potere, prestigio, sesso, moda, sport, bellezza, bellezza estetica, bellezza esteriore, evidentemente, che non ha niente a che vedere con la bellezza rivelata da Cristo. Gli idoli ai quali i discepoli sono stati strappati. Un cristiano è passato dall'idolatria all'amore. Chi adora un idolo diventa come lui, dice la scrittura. Hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non sentono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non palpano, sono idoli di legno, sono idoli morti, inanimati. Chi li adora diventa come loro. Si comprende tutto quello che sta accadendo nella nostra società, si comprende tutto quello che accade nella nostra vita quando ci prostriamo davanti a un idolo. Quando ci prostriamo davanti all'idolo della famiglia. La famiglia può essere un idolo, eh? Assolutamente. Tuo marito può essere un idolo, tua moglie può essere un idolo, il tuo ministero presbiterale può essere un idolo, il tuo essere suora può essere un idolo, il tuo lavoro, eccetera, eccetera. Diventiamo come loro, senza vita, senza forza, senza capacità di soffrire. Ebbene, il Signore ci ha scelti, ci ha chiamati, ti ha chiamato, ha chiamato la tua famiglia, ha chiamato i tuoi figli, ha chiamato te, con la tua solitudine, con la tua debolezza, col tuo essere nubile, con la tua vecchiaia, con la tua gioventù. Sì, ha chiamato te per strapparti da questa idolatria che ti uccide, che ci uccide, che ci trasforma in idoli per noi stessi. E dietro a questo c'è sempre la solita tentazione del demonio, tu sarai come Dio, quindi degno di venerazione, di adorazione. Chi smette di credere a Dio comincia a credere a tutto, comincia ad adorare tutto. Allora, Gesù Cristo ha preso i Suoi discepoli, li ha purificati Lui, li ha purificati Lui. Abbiamo visto che Lui la loro ricompensa, è Lui il pane che li sazia, le nozze, dell'agnello, l'agnello sgozzato, offerto in sacrificio per loro. Quell'amore fatto carne, da mangiare, perché diventi una sola carne con la loro, con la tua, con la mia. I discepoli, insieme a Cristo, passano all'altra riva e all'altra riva li attende il mondo, li attende l'arena del mondo, esattamente come accadeva ai cristiani della Chiesa Primitiva, del tempo apostolico e sub-apostolico. Molti morivano martiri durante il catecumenato, cioè, diventavi cristiano e sapevi che ti giocavi la vita. Diventavi cristiano e sapevi che andavi a digiunare di tutto fino alla tua vita. Andavi a perdere la tua vita fisica. Lo sapevi perfettamente se diventavano cristiani e significava diventare martiri al 99,9%. Ma questo non è cambiato oggi, fratelli. È cambiato per chi di noi è ingannato dal demonio, ingannato forse anche da certa predicazione, da certe parole. Pensa che il cristianesimo sia tutto il contrario, sia la via per sfuggire ai problemi, sia la via per ottenere la risoluzione dei problemi. Non è così. Il cristianesimo è Cristo. Il cristianesimo è Cristo. diventare i suoi discepoli, essere stati chiamati e camminare nella chiesa per diventare i suoi discepoli significa una sola cosa, diventare lui e vivere la sua vita in questo mondo. Esattamente come i primi cristiani, come i cristiani oggi in India, nei paesi islamici, con il rischio di perderla. Ma tu non rischierai oggi andando in ufficio, ma certamente la perderai. Ti aspettano i gadareni, ti aspettano i pagani, perché devono verificare, devono verificare se Cristo è veramente risorto. Allora sì che digiunerai, perché il digiuno è missione. Perché i tuoi discepoli non digiunano? Digiunano quando lo sposo è tolto, cioè quando sono inviati nella missione. andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, andate a testimoniare, di questo voi siete testimoni, cioè di questo voi siete martiri. E lì, la notte oscura, ti cantava San Giovanni della Croce, ma la notte, la notte oscura, è la notte più amabile dell'alba, la notte che unisti l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Quando lo sposo è tolto è quando lo sposo è più presente. Per questo si digiuna da tutto. Non è una contraddizione, è qualcosa di ancora più grande. È il vero amore, è il vero cristianesimo, fratelli. È quello a cui siamo chiamati, è quello che in questa quaresima siamo chiamati a vivere anche con dei segni, digiunando seriamente da qualcosa, digiunando da internet, digiunando dal fumo, digiunando dalle parole, digiunando dalla televisione, digiunando da tante stupidaggini con cui noi riempiamo la nostra vita. Forse digiunando anche dal tuo fidanzato, perché no? Anche digiunando dalla relazione morbosa che hai con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori. Che significa? Significa vivere la missione, vivere la vita di Cristo. significa che laddove tu ti senti più solo, laddove tu stai digiunando veramente dagli idoli del mondo, quando tu stai digiunando, il digiuno, il digiuno la propria vita, il senso di quello che sta accadendo. Non è a caso che ti succede quella difficoltà, non è a caso quella malattia, non è a caso quella relazione difficile con quel professore, non è a caso la difficoltà in questo momento con il tuo fidanzato, con la tua fidanzata, con quell'amico, con quell'amica, con quel collega, col capo ufficio, con tua moglie. Non è a caso se in questa quaresima tua moglie è particolarmente nervosa, è particolarmente irritabile. Non è a caso se in questa quaresima stai sentendo con più forza la tua solitudine, il peso di tanti fatti del passato che ti ritornano alla memoria, forse ancora non riconciliati. Non è a caso per un semplicissimo motivo che il tuo sposo è più presente oggi che mai, è più vicino alla tua vita che mai. guardate cosa vi sto dicendo. Una cosa che è importantissima, che distrugge ogni pratica religiosa esteriore, ogni ipocrisia, che è la prova del fuoco e il crogiolo che purifica, che purifica, purifica, purifica veramente la nostra relazione con il Signore per arrivare a una libertà che ha noi sconosciuta. quando lo sposo è tolto allora digiunano, cioè allora entrano nella storia, allora entrano nei fatti, allora entrano in quello che Dio presenta loro ogni giorno, senza escludere nulla, senza schivare nulla. digiunano, digiunano dall'affetto, digiunano dalla stima, digiunano dall'essere compresi, digiunano dai primi, dai secondi, dai terzi, dai quarti, dai quinti, dai sesti, dai settimi, dagli ottavi posti, digiunano da tutto. ma questo significa essere in missione, questo significa che lo sposo è stato tolto perché sei in missione, perché hai una missione importantissima, fondamentale, laddove tu posi i tuoi piedi, in quel pezzo di terra dei Gadareni, del territorio dei Gadareni, dove Dio ti manda ogni giorno. Ma in quel momento, in quella notte oscura, Cristo è più presente, digiuni perché Lui ti sazia, puoi digiunare, puoi entrare lì, puoi entrare nella missione che Dio ti ha affidato come madre, come padre, come genitore, come nubile, come prete, come suora, come quello che sia, itinerante, famiglia in missione, quello che sia. Tu puoi entrare lì perché? Perché Cristo ti sazia, quindi è tolto per saziarti, ti è tolto forse sensibilmente, ti è tolto dalla vista, cioè non riesci a vedere, magari vivi la rinità di una notte difficile, la quaresima, per questo ci alziamo per pregare, per questo diamo morte alla nostra concupiscenza, per questo facciamo, usiamo le armi che la Chiesa ci dà, ci spogliamo dei beni, dei beni e feticci dell'idolo, di tutti gli idoli, cioè entriamo con Cristo lì, le nozze dell'agnello sono l'amen, amen, il corpo di Cristo, amen, che vuol dire amen? Così sia, che vuol dire così sia? Così è, così è, così sia, quel corpo è il corpo di Cristo, quel corpo è il corpo di Cristo che ha compiuto la volontà del Padre, quel corpo, quell'ostia, quel pezzo di pane che tu ricevi è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e che entra nella storia, nella tua storia, se tu dici amen, dici amen al suo amore, alla sua purificazione, alla sua opera in te che ti toglie il peccato e dici amen a quello che Dio ti sta preparando in ogni istante della tua vita, dici amen al digiuno, mangi per digiunare, non è il contrario, cioè tu mangi, sei sazio per l'amore di Dio, ha riempito ogni cellula, ogni fibra del tuo corpo, la tua mente, il tuo cuore, le tue forze, lo scema, amen, il tuo Dio, con il tuo unico Dio, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, cioè perché Cristo è dentro di te totalmente, allora puoi digiunare da tutto il resto, puoi digiunare da tutto il resto e puoi entrare nella notte oscura, nella persecuzione, nell'insulto, nella calunnia, laddove nessuno può entrare, tu puoi entrare dove tutti sfuggono, puoi entrare in quella notte per essere sacramento di salvezza, un segno, per essere alla testa di un popolo di pagani che non sanno dove vanno, come quelli abitanti di Nive, di Nive, che non sapevano dove andare, né a destra né a sinistra, non sapevano distinguere, dice la scrittura, cioè non avevano nessun discernimento, per questo, per sfuggire la sofferenza, per sfuggire i problemi, tua cugina, tuo nipote, tuo fratello, tuo figlio, tuo marito, peccano e sono ancora più soli, allora tu devi andare lì, per loro, per loro, è la missione della Chiesa, è impressionante, fratelli, più si è unito a Cristo, più digiuni, perché la sposa è con te, ma non è con te, tu sei già seduto con Lui alla destra del Padre, hai dentro vita, hai vita eterna, hai la tua veste bianca, le tue opere sono opere sante, sono un'opera di Cristo in te, ma Cristo non lo vedi, ma Cristo è lontano dai tuoi occhi, allora, l'immagine che ho messo nel blog, l'immagine della pietà di Michelangelo, bellissima, come le immagini della Vergine Maria nel film The Passion, un dolore fortissimo, la spada che trafigge l'anima, ma una pace, una certezza, che dentro da quel figlio che è morto, che gli è stato tolto, lo sposo, la chiesa che vede lo sposo toglierlo, togliersi lo sposo, anche dentro una certezza profonda, che lo sposo è risorto, che va a risorgere, che va a entrare nella vita eterna, e lei con Lui, sa che tutto questo è per compiere la volontà del Padre, che è che nessuno si perda, questo è il vero digiuno, la pietà di Michelangelo, la pietà, la Vergine Maria sotto la croce, questa è la nostra vita, questa è la quaresima, ma questa è la vita terrena, la vita di ogni giorno, digiunare, nell'attesa dello sposo, ma l'attesa dello sposo, che significa, attesa di un'intimità ancora più profonda, attesa del cielo, perché già qui, io, dentro, nel fondo di me, sono una sola carne con Lui, e nessuno mi separerà, l'uomo non ose separare ciò che Dio ha unito, se tu non lo separi, Cristo è con te, come una vedova, una vedova, che ha perso il suo marito, non per questo non è più sposata, assolutamente, assolutamente, questo sacramento è vero, come una vedova che il marito se n'è andato, l'ha lasciata, è andata in guerra, o l'ha tradita se vogliamo, non è il caso di Gesù Cristo evidentemente, ma per capire, allora c'è questo mistero enorme, enorme, meraviglioso, al quale noi siamo chiamati, siamo chiamati a sperimentare, e che i tuoi figli, sono chiamati a vedere in te, e a cominciare a sperimentare anche loro, non importa a che età, non importa se hai 80, 90, o 15 anni, questo è per tutti noi, fratelli, una parola meravigliosa, è digiunare, cioè avere un rapporto ancora più intimo, con il Signore, nella notte, come Mare Teresa, come Santa Teresa d'Avila, come Santa Teresa di Lisie, come tutti i Santi, come Padre Pio, San Pio, che ha dovuto passare per difficoltà, per rifiuti, altro che digiuni, ha dovuto digiunare dalla confessione per tantissimo tempo, ma aveva lo sposo con lui, ma non c'era, non si spiegava perché succedeva quello, come tante cose non si spiegano, perché succedono, ma perché lo sposo è con te, non è con te, ma è con te, questo che sembra una contraddizione, come in un cristiano, è la sintesi della sua relazione con Dio, la sintesi della sua relazione con Gesù Cristo, accettare e vivere nella libertà più totale, da tutto, digiunando da tutto, perché Cristo è con lui, Cristo non c'è, ma è con lui, Cristo sembra scomparire da tutte le cose, anche dal matrimonio, da tutte le cose, anche dai più santi, ma è dentro di te, e colma nel profondo il tuo desiderio di amore, il tuo desiderio di pace, il tuo desiderio di misericordia. Coraggio, buona giornata.